Ehi, Shooter! Sì? Il prossimo torneo è lunedì, vero? Sì, è vero. Facciamo una scommessa. Se vinco io, mi riprendo la casa. Se invece perdo, me ne vado. Vorresti battermi? A golf! Ok, accetto. Sei proprio cascato male. I pezzi di merda come te me li mangio a colazione. Non mi dire, fai colazione coi pezzi di merda! No!